Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi abbiamo una bicicletta barra motorino un po' particolare. Barra motorino semplicemente perché ha una forma un po' strana, come potete vedere da questa scatola. Geek Buying è il sito che me l'ha spedita e oggi cerchiamo di capire se ha senso oppure no. Prima di cominciare ragazzi, vi raccomando, date un'occhiata al sito che c'è anche un codice sconto, lo trovate in descrizione. Come sempre, cerchiamo l'aiuto del cuginetto. Hai già preso i ferri, bravo. No, guarda il faro davanti, che bello che è. Pedaline, questo fare qua non so cosa sia. Ah, il cavalletto, l'alimentatore per la ricarica, tutti i tool. Torniamo alla bicicletta. Ok, così. Come sempre noi non leggiamo mai le istruzioni. Mettiamolo dritto, diamogli un giro a questo. Una è stretta, ok. Stretto anche questo. Poverò appoggiarla, perfetto. Ormai siamo diventati super esperti. Faro? Il faro funziona. Ok. Quanto ci abbiamo messo, Pasco? 20 minuti, compreso anche il disimballo. Cambio libero, tutto ok. Abbiamo un cambio Shimano. Ragazzi, ovviamente, prima di distruggermi nei commenti, questa non è una bicicletta che potete andare ad utilizzare in strada. Perché? Perché ha un motore decisamente potente, 500 watt, è a pedalata assistita, sì certo, ma ha anche l'acceleratore. Anche l'acceleratore lo potete staccare in ogni caso, però comunque avendo un motore così potente, di una velocità massima di 45 km orari, è una bici che potete andare ad utilizzare, non so, ad esempio in spiaggia o comunque in montagna o in, diciamo, dei sentieri che, dove non ci sono auto, non sentieri pubblici, non strade pubbliche, ok? Molto importante. E poi la sicurezza prima di tutto, mi raccomando, mettetevi il caschetto. Sito consigliatissimo, nel senso che è largamente utilizzato, hanno anche, diciamo, dei punti di raccolta di questi prodotti direttamente in Europa, quindi non dovrete andare a pagare dogana, eccetera, eccetera, perché vengono spediti direttamente dall'Europa. E, vabbè, i pagamenti sono sicuri con sistemi di pagamento criptati, eccetera, eccetera, quindi ad esempio PayPal, carta di credito. Blablabla. Ha ruote da 20, la batteria è estraibile ed è qui, quando vi arriva, vi arriva già comunque carica decisamente tanto, oltre il 90% di carica, quindi la potete andare ad utilizzare subito quando la estraete dalla scatola. C'è un pulsante di accensione e spegnimento, di sicurezza, diciamo, che è qui molto rapido. Qui abbiamo anche dove poterla andare a ricaricare con il trasformatore dato in dotazione. Da qui sopra si può andare a vedere quanto la batteria è carica, quindi a parte ovviamente andarlo a vedere qui sul display, che tra l'altro ha una grafica molto carina, interessante. Se vuoi venire a vedere, adesso io l'accendo, oppla, con il chilometraggio, con anche la modalità di accelerazione da 0 a 5 e anche il trip. Come vedete qui in alto c'è la batteria. E una cosa bella, oltretutto, è che c'è il pulsante direttamente per andare ad accendere e spegnere il faro in stile motorino, molto carino. Poi abbiamo anche la freccia, sinistra e destra, che ragazzi, che freccia. Cioè guardate che bella, addirittura fa un gioco di luci, ovviamente il faro è LED ed è una freccia progressiva, sia a sinistra che a destra. E abbiamo anche il clacson. Bello presente. Qui poi abbiamo una chiave e la chiave serve semplicemente per andare a bloccare o sbloccare la batteria. Questo cosa vuol dire che se noi vogliamo ricaricare la batteria a casa, lo possiamo fare tranquillamente andando a sbloccarla e poi si potrà estrarre. Tra l'altro non pesa neanche tanto, assolutamente. Ovviamente è una batteria agli ioni di litio, con un montaggio nominale, come dicevamo prima, di 48V ed ha una capacità di 720Wh. Proprio non poco, eh? Non poco. E come dicevo, se per caso, non so, andate in ferie, la volete staccare, la volete lasciare in carica in casa, oppure andate in ferie e sapete che volete fare un giro un pochino lungo nei sentieri in montagna, potreste anche averne bisogno magari di una o di due batterie extra. Così voi potete comprarle, sono tutte compatibili, l'innesto è sempre lo stesso, è sempre la classica batteria che trovate per le biciclette elettriche. La potete andare ad inserire, magari la tenete allo zaino e potete andare a farvi un viaggetto. Qui abbiamo un cambio Shimano, un peccato di non averlo a 21 rapporti, ma qui solo 7 rapporti. Il che vuol dire che i 7 rapporti sono solo questi qui dietro, bene che comunque sia un cambio Shimano e abbiamo solo una corona davanti, vabbè, come è classica nel fatbike. Non avevamo visto già una di fatbike di questo genere e anche quella aveva un solo rapporto lì davanti. Se andate a togliere l'acceleratore e quindi trasformarla praticamente in una bici solo ed esclusivamente a pedalata assistita, farà fino a 120 km. Non male, con l'acceleratore invece vi divertite diciamo nelle strade in montagna per un massimo di 50 km. Ginger quant'è che pesi? Perché massimo 120 kg, eh? Beh abbiamo 20-25 kg in meno, ci sto ora. Vabbè per me non è un problema. Ah e dimenticavo, in carica quando è completamente scarica riuscirete a fare una da 0 al 100% dalle 6 alle 8 ore. Ciao! 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 Ciao!